Dio caro manco se dovessi mandare Dio caro a pitturato Oh è scenografia non ho per cazzo Ma quanto è figo Ma il caro armato potiamo portare no? Cioè portato a serio si è portato E' l'attrezzo idoneo per fare la faccenda Fermi tutti Io voglio gli assenti che non vengono Ah le persone assenti Aspetta Ma comincio e vai via Sarà un briefing di pizza Se c'hanno voglia se le danno Non mettete le mani addosso che non c'ho voglia E' un continuo E' un continuo Io mi son pentito di averle invitato E' vero Ma tutte quelle inquadrature a Target Anni 90 Chiaro che dici? Ma doni c'è stamattina di sette Mi avete fatto venire il fan cazzo Bravo Oddio che è io Se mi fa parlare io te spiego Guarda L'ho levato senza l'elema Quanto so' forte F*** 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 F***